Fa questo e diventa una donna incredibile. In questo video voglio spiegarti che cosa devi fare per diventare una donna incredibile, una donna che sa quello che vuole, una donna che sa conquistare, una donna che non ha blocchi emotivi, una donna che ha tutte queste capacità. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazioni, seminari dal vivo e abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, veniamo al tema e il tema è proprio quello, fai questo e diventa una donna incredibile. Allora, quello che posso dirti è che è venuto il tempo, è arrivata l'ora di disintossicarti da tutte le dipendenze. Se vuoi diventare una donna incredibile, una donna incredibilmente seduttrice, una donna che sa conquistare, una donna che sa raggiungere gli obiettivi nella sua vita, devi disintossicarti da tutti i veleni mentali. E per costruire la tua versione migliore di te stessa e vivere una fase, diciamo, una buona fase della tua vita dipende soltanto da te questo, dipende soltanto da te e devi lavorare su tutti i fattori, diciamo, che fanno parte, lavorare su tutti i fattori che fanno parte dell'essere umano, la parte fisica, la parte mentale, la parte emotiva. Da un punto di vista fisico devi prendere cura di te stessa, non puoi, diciamo, lasciarti andare fisicamente perché poi tutti gli aspetti sono collegati. Come dire, schiaffarti, mangiarti barattoli di Nutella, dolci e cose di questo genere, ingrassare, diventare, come dire, una balena. Non puoi, devi, come dire, tenerti in forma. E questo fa parte dell'igiene quotidiana, io direi. È un po' come andare a lavarsi i denti quando si sveglia, no? Insomma, fa parte dell'igiene. Mantenere il corpo in forma è fondamentale. È un segno di rispetto verso se stessi. Quindi non esiste che una persona, certo, può essere ci sta un chilo di più, ma se mangia sbaffo e diventi una chiattona, beh, poi, come dire, sicuramente, per dire non riuscirai ad attraere, ma soprattutto non riuscirai a piacere a te stessa. Quando parliamo, invece, del lavoro mentale, bisogna... Il lavoro mentale è fondamentale. Il lavoro mentale vuol dire che devi imparare a toglierti dai maroni tutte le persone negative, le persone che ti tolgono energia, le persone che ti bloccano, le persone che ti impediscono di svilupparti, siano esse compagni da un punto di vista sentimentale, chiunque sia, devi togliertelo dai piedi. Perché tu devi esprimere al massimo le tue capacità, devi imparare a trarre piacere, diciamo, dal diventare indipendente, dall'essere sicura di te stessa, dalla capacità di conquistare, dalla capacità di ottenere quello che è giusto ottenere. Questo è un fattore fondamentale. Non può essere diversamente. Tu non puoi interagire con una persona se non sviluppi, diciamo, tutte queste capacità. Sono fondamentali, sono delle caratteristiche fondamentali. Impara a toglierti dai piedi tutte le persone. Non importa che sia una persona una persona con la quale una relazione sentimentale affettiva. Se è una cozza, se è una persona negativa, tra virgolette, te la devi togliere dai piedi. Posso dirti che questo è un fatto fondamentale. È veramente importante riuscire a comportarti in questo modo. E poi ovviamente c'è la parte emotiva. Se vuoi essere una donna incredibile, una donna seduttiva, devi saper sviluppare la tua parte emotiva. Devi, tra virgolette, fare una detox emotiva. Il che vuol dire che devi smettere di nutrirti di donna, di diventare una donna che smette di nutrirsi di emozioni negative. Quindi l'unico modo per rifugire le emozioni negative è somministrati emozioni positive. Non c'è verso. Perché se tu non impari a somministrare emozioni positive, non potrai mai, come dire, eliminare quelle negative. Perché automaticamente entreranno. potremmo dire che il male nasce dall'assenza del bene. La negatività si sviluppa se non c'è positività. Cioè se tu nel tuo sistema non immetti emozioni positive, poi il sistema automaticamente si prenderà emozioni negative. Questo è un dato di fatto. Quindi se tu riesci a lavorare su questi fronti, e non è così difficile, basta avere un atto di coraggio. Per disintossicarti dalle persone negative, basta toglierti dai piedi. Se una persona non ti dà quello che vuoi, toglitela dai piedi. Non stare e chiederti ma perché, ma per come. Perché il perché è un qualcosa di negativo. Non devi chiederti nessun perché. Il perché non deve esistere. Tu devi assolutamente smettere, diciamo, di credere che a furia di chiederti dei perché, tu possa trovare una soluzione. Non troverai nessuna soluzione. La soluzione è quella di imparare a darti delle emozioni. Quindi fondamentalmente le cose che devi fare, importanti sono tre poi. Prenditi cura del tuo fisico. E del tuo fisico vuol dire curarti. Non soltanto con una dieta, ma vuol dire anche curare la tua femminità, vuol dire curare il tuo aspetto, vuol dire curare veramente l'essere donna, l'essere femmina, l'essere femminile. È fondamentale questo. Prenditi cura della tua mente, raggiungendo degli obiettivi importanti della tua vita, tenendo presente che ci sono tante aree nella vita, non soltanto sentimentale e affettiva. C'è l'area lavorativa che devi sviluppare, l'area sociale. Quindi, e questo puoi farlo soltanto se ti togli dai piedi tutte le persone negative che non ti danno quello che vuoi. Certo, eccetto i genitori e i figli che devi in qualche modo interagire, tutti gli altri te li puoi togliere dai piedi. Ma devi farlo. E qua servono dei grossi atti di coraggio. E non riuscirai a fare questo se non ci sarà la terza parte, che è quella emotiva. Avere la capacità di darti le giuste emozioni, avere la capacità di somministrarti le giuste emozioni. E questo è importante. Emozioni positive, emozioni trasgressive. Vividi qualche trasgressione. Come dire, non restare soltanto istituzione, istituzione, istituzione. Vividi delle trasgressioni. Molto importante tutto questo perché altrimenti non raggiungerai veramente nessun obiettivo. E dispiace perché è importante, sarebbe veramente fondamentale per te poter raggiungere obiettivi che siano veramente buoni e giusti per la tua vita. Fai queste cose, fai questo e vedrai che rapidamente diventerai una donna incredibile con incredibili capacità di seduzione. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video se non l'hai ancora fatto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, seguimi sulla pagina TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminar dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!